E' impegnato a fare, a rispettare la distanza della partiera per l'arbitro. Antonioni, giro! Sì! 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 O te ricordi mi abilità! L'aveva visto in Little Pepe. Little Pepe è espressione eccezionale. Dice se non viene un grande peraltro, non viene un grande peraltro. Un ragazzo perfetto. Non aveva nessun sì, Fefe. Assolutamente. Era brava, disciplinava. Si allenava senza problemi. E sì che il video era un duro. Non era possibile. La Fiorentina, dopo il buon avvio, si era fatta quasi sempre fine dall'esperienza di Rossoblu. Il gol gioiello della partita sarà allo scattivo. E il gol da 3 a 0 lo segna Antonioni così. Un gol nuovo. Il calcio italiano diventa il ragazzo che gioca guardando lo stile. Zordano... Parola 1 Grazie a tutti. 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 a tutti.